Il mio fondatore, San Paolo, diceva che la passione di Cristo è la più grande e stupenda opera dell'amore divino. E quindi ho parlato dell'amore divino. Un bambino alza la mano e mi dice che ho capito chi sono i passionisti, sono i maestri dell'amore. Ecco, è bello. Magari. Davvero, la più bella definizione, nel senso che predichiamo la passione ma come segno di amore di Dio verso l'umanità. Non come mortificazione, soltanto penitente e cupa. La sofferenza è la misura dell'amore.